Perché con lo smartphone riesco a fare più cose che con la mia fotocamera? Questa è una domanda che attanaglia i non professionisti e i principianti, una domanda che mi è stata rivolta questa settimana, la settimana in cui registro ovviamente, non la settimana in cui vedete il video, però poco importa. Nella fattispecie una persona che conosco mi stava dicendo ma è possibile fare questa foto con la tua macchina fotografica? Io gli ho risposto guarda, in questo preciso istante no, perché in questo preciso istante la mia macchina fotografica monta questo obiettivo che non è adatto per fare quella foto. Lui era basito e mi ha detto ma com'è possibile che con la tua macchina fotografica la foto venga meno bene che col mio telefono cellulare? Oggi vado a spiegarvi questo concetto e vi assicuro che non pensavo che avrei mai dovuto fare un video del genere, però io prendo spesso spunto dalle domande che le persone mi fanno. Attenzione, questa persona non era uno di voi che mi seguite da casa, è una persona che conosco davvero, una persona che non si occupa di fotografia e quindi non era tenuta a saperlo, però colgo la palla al balzo per fare questo contenuto perché immagino che molti di voi che mi seguite abitualmente si annoieranno con un contenuto come questo, però invece molti che malauguratamente per loro non mi seguono e quindi scrivetevi adesso, il bottone è qui sotto così non vi perdete i prossimi aggiornamenti, molti che non mi seguono magari hanno questo stesso dubbio, stanno pensando ma come ho comprato una macchina fotografica, com'è possibile che con l'iPhone riesco a fare più cose che con la macchina fotografica? Oggi andiamo a capire perché. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende, mi capita anche di lavorare con l'iPhone, con il cellulare, perché insomma ormai i contenuti social si fanno così, ha poco senso che io vada con una videocamera red a girare gli shorts per un'azienda, poi dovrei tornare in ufficio, metterci una settimana a post produrrglieli e consegnargli dei file gargantueschi che il cliente non riuscirebbe a gestire, invece si gira direttamente col telefono cellulare. Ecco che questa abitudine a lavorare col telefono cellulare e in particolare con gli ultimi modelli che hanno 7, 8, 21 videocamere, cioè 21 obiettivi diversi, l'iPhone 15 ne ha dichiarati più di 4, adesso non mi ricordo neanche più, sono 3 camere che però hanno molteplici possibilità, quindi puoi avere tutta la gamma delle lunghezze focali possibile e immaginabile praticamente, vai dal 13 mm fino al 120 mm, praticamente non ti manca niente, cioè ti manca l'8 mm fisheye e ti manca il 600 mm, che sono due estremi, tutto quello che c'è in mezzo un telefono cellulare te lo lascia fare. Facciamo uno step indietro, che cosa significa questo? Perché sto facendo questo video per chi non ne capisce niente, quindi ripeto, chissà già tutto si annoierà, però questo qui è un video pensato per chi questa cosa non la sa. La lunghezza focale è un parametro stabilito dai costruttori per identificare un angolo di campo, quindi faceva riferimento originariamente alle dimensioni dell'obiettivo, alla distanza tra il frontale dell'obiettivo e il sensore, ma queste sono cose che oggi hanno poco senso, perché per come vengono costruite oggi le lenti questa distanza non è più neanche rispettata, quindi è rimasto un dato, un numero che noi usiamo per identificare un angolo di campo sostanzialmente e come tale viene riportato sui telefoni cellulari. Questo cosa significa? Prendo a riferimento l'iPhone 15 Pro, che è un telefono che ho io e che abbiamo conosciuto su video che ho già fatto sul canale, andateveli a recuperare se vi interessa, ed è un telefono abbastanza noto. L'iPhone 15 Pro ha un 13 mm, poi ha un 24 mm, poi ha un 50 mm e un 77 mm, e il Pro Max ha un 120 mm. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'angolo di campo è diverso. A 13 mm l'angolo di campo è ampio e quindi mi permette di catturare una scena ampia, un paesaggio, una grossa stanza, una strada, un panorama, una montagna, un edificio. Se voglio catturare qualcosa con un angolo di campo ampio, quindi qualcosa di grande, o se voglio fare una foto da molto vicino, io più mi avvicino, più il mio soggetto si ingrandisce in camera, quindi se io allargo l'angolo di campo riesco a catturare questo soggetto intero anche se sono molto vicino. Il 13 mm va benissimo per fare questo. Il 24 mm, che è il secondo obiettivo che abbiamo sul nostro iPhone, che è l'obiettivo standard, è quello con cui, il primo che vediamo quando apriamo l'app della videocamera o della fotocamera dell'iPhone, il 24 è un grand'angolo standard, quindi non ha un angolo di campo ampissimo, ma un angolo di campo un po' più stretto. Poi abbiamo il 50 mm, che ha un angolo di campo ancora più stretto, e il 77 prende un angolo di campo via via, sempre più stretto, e poi abbiamo lo zoom digitale, che vi consiglio di non usare mai. Questo cosa significa? Il nostro telefono, in sostanza, ci permette di decidere l'angolo di campo, la lunghezza focale, di conseguenza è come se ci permettesse di decidere lo zoom. Noi stiamo partendo da un sensore che ci permette di avere un angolo di campo ampio, a uno più stretto, a uno più stretto. Questo significa avere diverse lunghezze focali sul nostro telefono cellulare. Ora, questo ovviamente è possibile anche in fotografia tradizionale. Noi possiamo variare l'angolo di campo e la lunghezza focale, ma su una fotocamera tradizionale, che alla fine non è tradizionale, perché stiamo parlando comunque di mirrorless digitali, comunque di roba moderna e tecnologica, però abbiamo a che fare con degli obiettivi che ovviamente ci permettono di variare l'angolo di campo. Se io monto un 13 mm sulla mia fotocamera, avrò il 13 mm uguale all'iPhone. Se io monto un 24 mm sulla mia fotocamera, avrò un 24 mm uguale a quello dell'iPhone. Quindi la fotocamera ci permette di avere lo stesso angolo di campo, ovviamente. E non solo la nostra fotocamera, ci permette anche di zoomare. Non è che con la fotocamera esistono solo le ottiche fisse. L'iPhone ci permette di zoomare con i pollici sullo schermo, la fotocamera ci permette di zoomare girando l'anello sul bariloto dell'obiettivo. La differenza, la grossa differenza, è che sui telefoni cellulari noi stiamo zoomando, semplicemente shiftando il sensore o nel peggiore dei casi facendo un ingrandimento digitale, quindi con un decadimento qualitativo. La fotocamera invece ha un solo obiettivo e un solo sensore e quindi all'interno del bariloto dell'obiettivo ci sono diverse lenti che si muovono. Quindi quando noi andiamo a girare l'anello di zoom sul nostro obiettivo, queste lenti si muovono, si riallineano per darci un ingrandimento diverso, ottico però, quindi con una qualità maggiore senza nessuna caduta qualitativa. Come detto, la fotocamera è in grado di zoomare, però lo zoom sulla fotocamera di solito è limitato, perché è vero che esistono dei super zoom anche per le fotocamere, però di solito sono ottiche di scarsa qualità. Comunque la fotografia è un compromesso, quindi io devo scegliere se avere un'ottica qualitativamente sopraffina, e in quel caso la maggior parte delle volte sarà una focale fissa, oppure se avere un super zoom, nel senso un obiettivo che mi permette di zoomare da 18 a 135 mm, per esempio. Quindi quasi l'equivalente di quello che possiamo avere su un iPhone esiste anche per la fotocamera, ma è un'ottica di scarso valore, perché con tutto quel range di zoom abbiamo dato privilegio al range di zoom sacrificando la luce e la nitidezza. Quindi un'ottica che ci permette di avere quella versatilità non è mai un'ottica di eccelsa qualità. Esistono delle ottiche zoom di grande qualità che sono gli zoom standard che tutti i produttori hanno, quindi parliamo per esempio del 16-35, parliamo per esempio del 24-70, parliamo per esempio del 70-200. Sono tutti zoom che hanno un range limitato. Fateci caso, 16-35, sì, ha un bel range, è un'ottima ottica che a me piace molto, però va da un grand'angolo con un angolo di campo abbastanza ampio, quasi un 13, a un 35, quindi meno del 50, meno dello standard. È un grand'angolo puro. È un grand'angolo che ci dà tre soluzioni grand'angolari sostanzialmente. Ci dà il 16, il 24 e il 35. È una cosa molto bella, però non è estendibile all'infinito come potrebbe essere su un dispositivo elettronico. Perché? Perché l'anello di zoom si blocca a un certo punto. Se è un 16-35 va da 16 a 35. Io non posso zoomare oltre in un lato o oltre in un altro, quindi ha un range limitato. Ed ecco che quando io monto un 16-35 poi mi sento dire, ma come? Com'è possibile che la tua macchina fotografica non vada oltre il 120 del mio iPhone? È possibilissimo, perché io sto montando un 16-35. Quindi non posso farla quella cosa lì. Ora, ovviamente la domanda successiva del mio interlocutore è ma scusa, ma perché se l'iPhone è più versatile perché le macchine fotografiche non fanno la stessa cosa e non ti danno la possibilità di estendere il range? È una buona domanda, ma la risposta nasce proprio in seno alla filosofia con cui vengono sviluppate le due tecnologie, ovvero il telefono cellulare nasce per dare la possibilità a chiunque di fare qualsiasi tipo di foto. Qui non stiamo nemmeno parlando di principiante, qui stiamo parlando della sciurapina, della casalinga di Voghera o dello scemo del villaggio che prendono in mano un telefono cellulare e loro devono, per politica, devono poter essere in grado di fare una foto anche loro anche se non ne capiscono niente. E infatti ci riescono. Quando hai a che fare con una fotocamera professionale ma anche con una fotocamera entry level, la filosofia è diversa. Io con una fotocamera non ti sto dando una panacea con cui fare qualsiasi cosa. Con una fotocamera io ti sto dando un apparecchio con cui tu puoi scegliere e devi però scegliere che cosa fare. E quindi se vuoi fare macro devi prenderti un obiettivo macro fatto apposta. Non basta avvicinarsi e basta come fai col cellulare. Perché se ti avvicini con un 16-35 non fai macro. Non ce la fai. Non è fatta per quello. Devi prenderti una lente fatta apposta. E se vuoi prendere un picchio sull'albero non è sufficiente che zoommi con i pollici. Devi prenderti un teleobiettivo in grado di darti quell'ingrandimento. Quindi la grossa differenza è questa. Telefono cellulare nasce per permettere a tutti di fare qualsiasi cosa. Se il soggetto è troppo lontano fai così con i pollici e si ingrandisce. Se il soggetto è troppo vicino fai il contrario con i pollici e ti zooma indietro e puoi catturare qualsiasi cosa con la panoramica digitale. Telefono è fatto per accontentare tutti. La macchina fotografica è diversa. È uno strumento di precisione che serve per fare delle cose di precisione. E questo però significa che ci vuole precisione anche l'auto utilizzatore. Cioè se io voglio fare una cosa di precisione devo finare i miei strumenti in maniera tale da riuscire a fare quella cosa. La qualità che otterrò lavorando con la videocamera o fotocamera con lo strumento di precisione è infinitamente superiore a quella ottenibile con un telefono cellulare. Ovviamente. E anche la soddisfazione che ne ottengo perché non è solo per i professionisti. La soddisfazione che ne ricavo se ho usato uno strumento di precisione è molto maggiore rispetto a quella che ottengo facendo clic col cellulare e poi via in tasca. È maggiore anche per un motivo psicologico. Ho investito dei soldi per una cosa che fa solo quello. Facciamo un esempio. Io sono appassionato di orologi come ben sapete. Quando io indosso un orologio uno mi dice ma che ti serve? L'ora c'è anche sul telefono. Certo. Ma vuoi mettere la soddisfazione di avere un oggetto che serve solo a dirti l'ora non per le notifiche non ti fai massaggi non ci puoi impostare il condizionatore a casa quando esci da lavoro è un dispositivo che ti dice solo e soltanto l'ora è una soddisfazione è una coccola che tu ti fai e ci hai investito dei soldi e quindi te lo godi qualcosa su cui hai investito dei soldi poi te la godi allo stesso modo nel momento in cui tu investi su una fotocamera è la stessa cosa perché uno dice ma scusa ma che cacchio te ne frega la fotocamera c'è anche sul telefono? No. No. Perché nel momento in cui io ho investito dei soldi su una fotocamera e poi la uso c'è del godimento nell'usarla perché io me la sono scelta ho risparmiato per prendermela ho aspettato del tempo mi sono informato tutto questo a livello psicologico fa sì che l'esperienza d'uso con una macchina fotografica sia molto più appagante rispetto a quella con un telefono cellulare il telefono cellulare è obbligatorio tutti dobbiamo averlo senza il telefono cellulare non possiamo neanche accedere allo speed figuriamoci quindi siamo obbligati ad averlo e la videocamera e la fotocamera c'è già e quindi la usiamo di conseguenza la diamo per scontata come una cosa che tanto è inclusa e quindi facciamo click zero esperienza d'uso zero emozione e la foto è fatta e finisce nel nostro rullino foto del telefono dove poi verrai immancabilmente persa quando cambiamo telefono perché è fondamentalmente spazzatura è tutta roba che lasciamo lì ma che non ci interessa quando ci abbiamo dedicato del tempo quando abbiamo passato del tempo ad aspettare di acquistarla perché non avevamo i soldi abbiamo risparmiato l'abbiamo scelta fra tante siamo andati a ordinarla non ce l'avevano ci è dovuta arrivare da lontano abbiamo aspettato ancora e la volevamo follemente poi abbiamo scelto un'ottica la memory card non vi sto a fare tutta la tiritera a quel punto quando andiamo a utilizzare il nostro dispositivo ce lo godiamo molto di più perché abbiamo fatto delle scelte che ci hanno portato fin lì abbiamo capito delle cose sicuramente queste scelte ci portano anche a sapere che se vogliamo fotografare il Grand Canyon ci serve un certo tipo di obiettivo se vogliamo fotografare una mosca sul vetro ci serve un altro tipo di obiettivo completamente diversi se siamo andati sul Grand Canyon portandoci dietro l'obiettivo macro con cui fotografavamo la mosca il Grand Canyon non riusciamo a fotografarlo se noi cerchiamo di fotografare la mosca con il grandangolo con cui volevamo fotografare il Grand Canyon di nuovo non ci riusciamo quindi è importante fare questa distinzione è importante capire cosa ci serve è importante a mio modo di vedere sapere che quando utilizzi un dispositivo dedicato le scelte a tua disposizione sono più importanti perché sono di meno e costano di più proprio come con gli orologi o come con le automobili perché il ragionamento è esattamente lo stesso uno mi potrebbe dire ma perché la tua Lamborghini non ha il bagagliaio grande è la stessa cosa ragazzi la mia Lamborghini che non possiedo se qualcuno me la vuole regalare l'accetto la mia Lamborghini che non possiedo ha il bagagliaio piccolo perché non è una macchina per andare a fare la spesa non è pensata per quello allo stesso modo uno potrebbe dirmi il contrario uno potrebbe dirmi scusa ma la tua la tua macchina familiare la tua multipla il tuo crossover come mai non va da 0 a 100 in 2,9 secondi perché non è fatta per quello non è una macchina da corsa una macchina per famiglie non è una macchina che punta sulla velocità e noi dobbiamo scegliere vuoi la velocità ti prendi la Lamborghini vuoi una macchina col bagagliaio grande ti prendi la multipla sono due scelte diverse in ambito automobili è più facile capirlo il paragone perché in ambito automobili non esiste lo smartphone cioè l'automobile che vada a 300 all'ora che abbia il bagagliaio grande non esiste quindi lì è più facile capire che hai una scelta sola in ambito fotografico complice il fatto che tutti abbiamo uno smartphone ma sempre meno abbiamo una macchina fotografica è più difficile da capire quindi nuovamente io mi scuso con chi queste cose le sa già e so che siete molti di quelli che mi seguono a saperle già questo è un video fatto solo per chi non le sa e attenzione però perché numeri alla mano io credo che quelli che questa cosa non la sanno siano di più di quelli che la sanno e che già mi seguivano perché il mondo non è fatto di foto amatori o di professionisti il mondo è fatto di gente che usa lo smartphone quindi secondo me questo video annoierà tantissimi di quelli che mi seguono già ma potrebbe essere utile per molte più persone tutte queste persone io le invito ovviamente a iscriversi perché ci saranno nuovi argomenti che tratterò su questo canale in cui andremo a vedere come migliorare di volta in volta le vostre fotografie con dei suggerimenti che valgono sia per le fotocamere professionali ma anche per gli smartphone perché molte delle cose di cui parlo sono unisex sono cose di buon gusto buon senso e regole generali che poi valgono su tutti i dispositivi per cui vi aspetto anche nei commenti fatemi sapere se questo video vi è stato utile o se sapevate come immagino sapevate già tutto come sempre io vi ringrazio per aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao